insomma specialità della casa della community sarda sadler cartina winner fire praticamente sempre gli space fury guarda forse c'entra lei un pochino di più il winner final è importante no infatti rischiamo di fare solo cagate va bene va bene mola così no 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 mola così non importa era solo per cento di più comunque ce l'ho fatta iniziano già picchiarsi abbastanza schiaffi schiaffi già ben giocatore per cento sex kick chi ha il sex kick migliore il sex kick migliore tra loro due caspita è una bella lotta è una bella lotta perché cerca di prendere i due frame no cioè tra l'app smash di sadler e il backer di wolf cartina mi stai chiedendo no no in generale tra wolf e fox chi ha il sex kick migliore wolf dai un sadler scatenato indemoniato ma cartina parte alla riscossa poteva starci un bell'upper dash attack into laser aspetta a entrare cartina stava lanciando il forward smash aspettando così il dash attack dai è sleale e qua cartina stava lanciando top tier quindi deve essere la percorsa anche fight o no e invece no assolutamente no noi abbiamo un falco player molto forte che oggi ha ammissato totalmente l'evento purtroppo il lavoro ecco sadler che ci chiede di prendersi lo stop no entra cartina incazzato nero si può dire incazzato in tv no 177 qua stenterai bear esattamente noi abbiamo proprio tutto il team degli space fury al completo 177 di pommel ner ancora off stage se lo poteva leggere molto cursato anche il community clash dell'anno scorso che l'ha vinto ma non lo poteva andare eh eh si esatto è proprio lui quello che poi non è andato ragazzi io lo capisco a culur johnny purtroppo quando inizia a lavorare il tempo da dedicare a smash è poco e invece entra l'app smash di cartina che con il rage va a prendersi il 2 stock a 0 su su sadler che qua ara sadler deve fare diventa assalato diventa assalato e qua i backer come dicevo era quello più facile per prendersi la stock lo shine che non entra serie di uptick 6 kick di cartina 6 kicks dash attack into dash attack si dash attack into dash e che comunque è una smash bros me lì l'ho visto eh l'ho visto no Facciamo finta che Che il wolf sia falco Di mele Mele Pere Come lo vuoi chiamare Mele e pere Voleva leggergli la rotolata La roll ma Niente da fare Piace che non entra Qua sicuramente Un po' di Un po' di tomo Pere Ancora Entrambe spaziate Per un'altra è entrata la jab Non sarei sentita di continuarla Tutta no Non penso che Forse neanche necessaria Mamma mia Che quel fail Che cosa è Io credo che ormai Le distanze Non contano Di loro due che giocano Li sappiano a memoria Cioè per quante volte hanno giocato Con reset vari Anche in grand final Ogni volta infatti La storia di Riccardo Di Sadler Si fa sempre il reset Fa cose incredibili E poi per pochissimo E anche lì come dicevi prima E questo è neanche di manco Di testa Di quanto resiste Alla pressione È pesante Posso dirlo però Senza paura di essere svinuto A me piace di più come gioca Riccardo Sadler No no ma anche io Infatti io dico però Lo trovo Allora lo trovo più Cartina lo trovo più creativo Sadler però di un tecnico Che veramente Certo ultimo Mi fa paura Cioè un robot Si Si Però vabbè Questo non è Tekken In Tekken essere il robot E così giochi qua Dove le combo sono sempre quelle E forse è più importante Poi invece la creatività Vedere dove va l'avversario Reagire Conta tanto 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 anche quello Piuttosto che non esatto tanto Quanto hai la velocità Di riflessi di premere Ma tanto è vero Che gioca Fox Che è un personaggio che richiede questo Secondo me Non ti ha preso il punto Sul cartino O sbaglio Eccolo qua Ah no Ah si Vediamo al Cesare Quel che è di Cesare Sai il B che gli legge la roll C'è un problema C'è un problema questa jab di Fox O sbaglio io Due volte che gli sbaglia qua Non penso che Uuuuuh Che di App Smash Perisce Perisce Di App Smash Perisce Punisce Punisce Ancora si prende molto spazio Vedi come al solito Fox Una volta Presa la stock Presa il vantaggio Qua di Downer Che però non si fa Non si fa sorprendere cartina A tilt No String Per distanziare Poi Wolf è incredibile Cioè puoi nerfarlo Quando vuoi Ma se è rotto C'è roba C'è roba veramente Ottima App Smash Imbarazzo Di Wolf Chi chiameremo I giocatori dell'App Smash Eh si Alla fine Trambi Sono nati Space Fury Ottimissimo Tu eri un Falco Player Tra l'altro Droppato Cosa? Il Falco Mio Sì Peccato che non abbia I loro Ops Mi servirebbe Particolarmente Sì Secondario In qualche matchup Mi piace Perché è una strategia Molto differente Con Falco Ho sentito Fury No No Ho sentito male Space Fury No Sono animali No è una R Fury Una R Fatal Fury No comunque Vantaggio è che se lo sta tenendo Sta continuando ad andare la partita Stava per prendersi Uno smash in bocca Sì Eh ma è in percentuale Qua Sadler Amati È sad Ah Siamo sardi ragazzi Mettiamo Giocatore 1 Mettiamo le doppie un po' ovunque Uh Si stava tentando il down smash Uh up smash Sì Spanish Sadler Not so sad Optimum Sì che poi non credo sia neanche Non è sadler È proprio sadler Non so neanche lui da dove derivi onestamente Ho provato a leggere Un tech chase Yes Il test lo sta riportando Se qua chiude la stock Uh La vale Guarda madonna Helicopter Helicopter Per gli amici fair Ci prova? No Eh niente Però intercetta col 6th E cartina è anche bravissima a prendere due frame Sì Quello è innegabile O Wolf magari è anche Beh Dalla piattaforma Si scende Si Si pareggia Si fa il sexy kick In caccia E qua però cartina Che ha fatto la sua solita down throw in 2 cose Perché a 0 non è tu Mi sembra che sia un pochino di blu intercambolare Nooo Nooo Cartina Sbaglia l'air dodge Un po' tutto Voleva prendere il bordo No Eh Su 1 1 1 a pari 1 a pari Peccato Poteva meritare piuttosto che non per un errore Si si Il vantaggio se l'era preso Però esatto Ormai c'era Però poteva andare Quindi no ai fury Assolutamente no No Cioè Si per smash No al trove No al trove Bene bene Pokémon Stadia Si stavo dicendo anch'io Ma ho scelto da cartina A sto giro Forse perché Non prende l'app smash Sulle piattaforme di Di wolf No Di fox Di wolf Di wolf si perché è super avviso Si si va bene Uh Cosa Dove non prende quella di wolf Si ma al solito Un bel neutro di dash Nair Di entrambi Qualche fair 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 It's not fair Possiamo dirlo Possiamo dirlo No dai dai Tra le tante cose di Un wolf Il fair Lo accettiamo Lo accettiamo così come È un lupino speciale ma gli vogliamo Bello Ok no era ancora No Due volte di fila La prima era più semplice perché tornando in orizzontale Forse lì doveva tentarsi il side b anziché l'app di direzionato Però No forse il side b è ancora peggio non lo so O è la prima che sa fare farlo più lento E aspettarsi prima Vediamo se riescerà a fargli un app smash che lo porta via Sì sono un po' anche il 50-50 di mili che vuoi Sai del rientro Cioè? Cioè di app a b o side b Che c'hai quindi All edge Sai oltre aspetti l'app b è Ah sì O rientra di Vabbè mica All'epoca era Ledge guard era molto più importante Qua rientri gli attacchi da mille bordi Ueh sì 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 L'appel salto è qua Anche con il reggio Anche se probabilmente non si arriva nemmeno Cosa sta cercando di fare? Qua Prendergli la kill con la b Rischia tantissimo Eh ma sai che a questo Ora come ora se la può anche rischiare Tu dici tanto ormai O me la rischi facendo porcate Cioè porcate Roba Poco safe Per come sto messo E qua Gliel'ha letta Però il side b infatti Ha shieldato Invece che provare due frame O quant'altro Ancora non muore Non muore Cioè qua ho paura Che poi di reggici Lo spacchi pure Con Perciò Perciò è veramente bassi Ecco infatti Porca miseria 3 a 0 Quanto era sul 70? 75? Esplode 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 Eterna questa lotta Tra questi due Rivali in game E rivali anche i ragazzi E' una stage Migliore per Questo ho detto Inizio Chi l'ha preso questo Questo Sto giro Invece Sadler Sadler Sì Perché ha perso E ha deciso Lo stage Evidentemente Vantaggio gli da Il fatto di avere i bordi Così orrendi Penso Per i due frame Perché comunque Entrambi si possono Pensare Un po' di porcate Mi entra Ma pure Riena Ner Non provo A leggere il roll Bella Sì qua Wow Wow Cartina E' rientrato alto Aveva capito Che cartina aveva capito Esatto Qui c'è un layer Di skill in più Fanno un kill Ancora Il carcione Qui si può Prende una buona Percentuale Già E' qua Ma come ha fatto L'entrale Come al solito L'app smash E' un trap La panice È Assurda Di gol Accidì C'ha mille attacchi Unico L'ho incollato Dalla Che Si aspettava Che scendesse Dalla metaforma Lì contro L'app smash Di backer Sì qua ancora Di nuovo Dovranno cercare Ma a parte l'app smash Quali sono le possibilità Di uccisione Di kill Di fox Un po' più alto Di questo Cioè E l'upper E l'upper Fortissimo Però sì Arrivati a un certo punto In senso è difficile Fagli entrare Devi essere Molto rapido Cos'era Questo trade Da sotto Sì Poi ha vinto La B di Wolf Come si sono Lisciati In questo momento Qua Sadler Sta cercando In tutti i modi La kill Devi aspettare Un whiff Di cartina Che comunque Cartina è difficile Che ti faccia Un qualcosa di Errato No Soprattutto nel vantaggio Ripeto Secondo me È veramente bravo A tenerselo A rimanere paziente Anche con Franci Secondo me Se l'hai visto Non sono perso Il match Con Franci Abbastanza Guarda Si tiene la distanza A paura Del dash attack E quindi Ha provato L'hap smash Che non avrebbe killato Che paura gli fa Il dash attack Di fox Dash attack Up tilt Basta Finito Up tilt Può continuare Dove sta andando Ha rischiato Particolarmente Passa Adler Un kill ancora Vai Gliela preso Suo pg Per spendere Una buona Percettuale Uh Bravo Cartina Se lo aspettava Forse Ha fatto Quello 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 Sulla piattaforma No No Non aveva Un'opzione Migliore Per rientrare Ma Penso Che Anche lì Ci aspettasse Qualcosa Di Qualche No Ma Dunmash Che forse Era troppo vicino Per Per Provare A punire Per non essere Poi A fargli Una La presa Eh non lo so Forse era troppo distante Per la presa Ma erano dentro Cosa Dei lasciata che per poter Prendere Prima Lecce E qua Nello stesso modo di prima Ha capito che forse Il suo modo per entrare Provocarsi Cioè Farsi provocare Per tentare Per fargli tentare Il KO E punire La Up smash Sull'up smash Non c'è Poteva subire Poteva subire Lì Lì è tutto Mindgame Secondo me Tra i due Perché davvero Si conosco Fa schifo questa arena Non ti spara il laser Perché il laser di Fox Sia più intimidatorio Che non Non ti da problemi C'ha anche downer Dov up smash Però è molto complicato Come rientra? Ha tentato L'hard read Sulla roba L'up smash Ha tutato Giusto? Si L'up smash Più o meno All'altezza del reattore Pensavo Becco Eeeh No Stai Stai All edge Che io Ti punisco La mia smash Gigante Quanto due piattaforme E ti prendo Il 3 a 1 Con Un